Per il 34esimo torneo Daniele Pecci si affrontano Rimini e Fiorentina, Fiorentina costretta a vincere dopo la sconfitta all'esordio contro la nuova Torre Teste per poter ambire al passaggio del turno. Subito Viola in avanti in apertura, l'occasione è per il numero 7 della formazione Viola, vale a dire Dandolfi che qui non trova il gol da buona posizione. Nono minuto, ci prova il numero 9 di Caterino, fugge sulla sinistra, il tiro però termina direttamente sul fondo, nulla di fatto, la Fiorentina comunque ha a fare la partita. Ancora Fiorentina, pericolosissima, qualche istante più tardi sempre con di Caterino, ma grandissima risposta di De Marzo che nega il gol ai Viola, la gol che però arriva al 22esimo sui sviluppi di un corner dopo una corta rispinta da parte di De Marzo, arriva il gol di Buffa per il vantaggio Viola. Fiorentina che quindi va sull'1-0, Fiorentina che continua comunque a fare la partita e trova il 2-0 qualche istante più tardi al 25esimo con Landolfi che supera l'estremo difensore del Rimini in dribbling e deposita in rete per il 2-0 ancora Fiorentina. Qui con Pedrazzi che apre sulla corsia di sinistra per Pierozzi, il tentativo di pallonetto da parte di Pierozzi, palla alta sopra la traversa. Con l'immagine andiamo al secondo tempo, qui occasione per il Rimini con Notariale, buona risposta da parte di Fallani che evita il gol del Rimini, Fiorentina che continua ad attaccare, qui un colpo di testa da ottima posizione, palla che ferma però di poco sul fondo, poi ancora Fiorentina con uno dei neo entrati, Lenti, quella che non trova la porta, Lenti però trova il gol qualche istante più tardi. Siamo al 31esimo del secondo tempo, arriva il gol da parte di Lenti per il 3-0 finale con cui la Fiorentina batte il Rimini e conquista i primi tre punti del suo torneo. Grazie a tutti.